buonasera a tutti allora sì un pochino buio sono fuori tra poco devo andare a rete 4 però volevo commentare con con voi perché da un po che non facciamo delle dirette adesso vedo se qualche modo accendendo la luce riusciamo a sistemare meglio allora dicevo che la verità da qualche giorno sta scrivendo della rete di Pfizer tutti i soldi di Pfizer a medici e università devo dire che è notevole il racconto che il giornale di Maurizio Belpietro sta facendo ed è un racconto anche molto molto coraggioso cioè qui vediamo a proposito le fondazioni che che hanno con cui hanno delle relazioni e con cui hanno a cui danno dei dei soldi dei contributi molto molto importanti questo ci fa anche capire bene la potenza di fuoco di Pfizer rispetto al alla libertà che poi viene concessa nel momento in cui Pfizer ha un interesse a entrare sempre di più con i suoi farmaci e nella fattispecie con i propri vaccini la cosa non non ci sorprende in modo particolare noi più volte abbiamo sollevato questioni in aula io più volte anche con delle interrogazioni parlamentari e vi dico anche che abbiamo io personalmente ho intrapreso un'azione legale nei confronti della Pfizer e mi auguro che prima o poi un magistrato la voglia prendere in considerazione la vuole archiviare bene faremo un'opposizione a quel punto capiremo anche le ragioni di tale archiviazione e tutto questo si mette in coda a quello che ormai sappiamo che è accaduto in Europa cioè tutto quello che hanno voluto nascondere perché l'interesse di Pfizer deve essere un interesse che non deve non deve uscire deve essere tutto in qualche modo nascosto deve essere così secretato e quando l'amministratore delegato di Pfizer dialoga nel mezzo di una trattativa che riguarda un numero importantissimo di acquisizioni di vaccini che continuano a propinarci in tutte le loro varianti e che hanno venduto in proporzioni assolutamente e numericamente impressionanti tanto che ci sono delle dosi di vaccino che non sappiamo più non sanno più dove mettere perché sono dei farmaci e sono dei vaccini che non sono più utili alla battaglia del virus e allora ci ritroviamo con nuove vaccinazioni da fare con nuove varianti con nuovi proclami però tutto questo uno si domanda ma ci fate capire qualcosa no è impossibile capire qualcosa per il semplice motivo che non vogliono parlare di queste cose cioè praticamente tu devi ti devi così sciroppare la loro verità e la loro verità qual è è quella che seguendo il famoso insegnamento di Falcone rispetto alla lotta alla criminalità organizzata tu segui il denaro tu segui i flussi di denaro e ti dai una spiegazione a quello che sta accadendo allora la verità in questi giorni sta facendo gli elenchi della rete vicina a Pfizer o meglio dei soldi che Pfizer dà a ospedali fondazioni sanitarie ed altro tenendo anche conto che Pfizer paga i giornali in un modo indiretto non soltanto con la pubblicità ma attraverso la convegnistica quindi quando si promuovono dei convegni sulla salute sul covid sul dopo covid su questo e quest'altro magari anche sui effetti collaterali da vaccino e il principale sponsor o uno dei principali sponsor è Pfizer capite che il conflitto di interesse e di interesse è notevole allora perché queste informazioni non potevano essere date fin da subito perché nel momento in cui ponevamo delle in parlamento ponevamo la questione massimo silenzio io sono contento che adesso Sileri faccia la sua battaglia personale però quando io gli ho lanciato la la sfida la provocazione di venire a vedere con noi con magari Fraiese con Barbaro il film sui danni sui danni collaterali perché che è invisibili perché si è rifiutato perché non si è neanche degnato di darmi una risposta e dire che io l'ho invitato personalmente gli ho mandato personalmente l'invito per dire guarda se la tua denuncia è autentica allora quantomeno confrontati e ascolta le persone che si sono vaccinate perché o voi avete posto l'obbligo vaccinale e con quell'obbligo praticamente era un ricatto per il lavoratore oppure erano in buona fede e si erano fidati di quello che dicevano al governo allora ho detto caro Sileri visto che non sono i pericolosi rovax ma è gente che si è vaccinata e oggi lamenta un effetto collaterale anche grave perché non li vuoi ascoltare ma vale per lui ma vale per tutti gli altri perché queste persone non vengono ascoltate perché i giornali gli altri non si occupano della questione perché deve essere soltanto un certo tipo di stampa ecco allora la libertà di informazione nel momento in cui sai che Pfizer sta pagando diventa una libertà tra virgolette condizionata è una libertà diciamo sotto mora ecco questo è un po' il discorso che volevo fare quindi bene che almeno un po' di pressione viene fatta vi assicuro che la questione non muore qui perché purtroppo faremo sempre di più i conti con i danneggiati da vaccino prima o poi qualcuno dovrà darci delle risposte perché dico questo e sono sicuro perché io Pfizer l'ho denunciata e quindi in un modo o nell'altro una qualche risposta ce la devono dare anche laddove il giudice non volesse raccogliere la no e quindi rigettasse la nostra azione penale a quel punto dobbiamo sapere le motivazioni di tale rigetto va bene ragazzi io tra poco devo andare a rete 4 parleremo di economia tra l'altro magari domani vorrò parlare un po' più a fondo del discorso riguardante l'automotive e del perché la Germania è riuscito a ottenere quello che finora l'Italia non ha ottenuto domani sarò anche in Friuli Venezia Giulia a sostegno dei nostri candidati perché in Friuli Venezia Giulia siamo riusciti a fare un cartello di forze dissidenti un bel cartello di forze che senza litigare hanno trovato i punti di accordo e quindi valeva la pena di togliere i relativi simboli per un listone civico domani ve lo domani o dopo domani ve lo racconto perché starò a lungo in Friuli Venezia Giulia io ora vado a rete 4 altrimenti faccio troppo tardi e ci aggiorniamo va bene ciao a tutti per essere stati in collegamento con noi in diretta